domani la finale playoff di girone del campionato di C2 di calcio 5 sarà una partita sicuramente difficile per il Campobello per l'Atletico Campobello ma c'è tutta la voglia tutta la grinta di chiudere una stagione che è stata comunque esaltante visti i numeri visti i risultati. Sì hai detto bene stiamo preparando sta partita che per noi è una partita importantissima dopo un campionato fatto diciamo ad alti livelli speriamo bene che finalmente l'Atletico Campobello possa fare il salto di categoria e nell'attesa che diciamo di scendere in campo speriamo che tutti diciamo possano recuperare alcuni due giocatori che abbiamo infortunati speriamo bene speriamo bene incrociamo le dita. Che partita sarà quella di domani? Sarà una partita tosta una partita che affronteremo diciamo con le dovute cautele anche perché affrontiamo una formazione di tutto rispetto la Vigor San Cataldo diciamo che sia nelle partite del campionato sia l'andata che ritorno diciamo e le partite sono state equilibrate certo è una semifinale a partita unica noi abbiamo solo un risultato e dobbiamo cercare a tutti i cosci di vincere se se vogliamo diciamo ambire alla categoria superiore. Vincere è l'unico risultato possibile per poi fare una finale e quindi accedere con in maniera molto ancora più difficile è tutto inserita alla categoria superiore. Certo questa è una semifinale poi affronteremo il Macchitella che già è diciamo ha accesso alla finale poiché si è classificata seconda. Le semifinali ecco una partita secca il risultato è sempre in bilico noi e senz'altro ce la metteremo tutte abbiamo le carte regola per fare salto di qualità quest'estate abbiamo preparato questa squadra per vincere il campionato oggi abbiamo l'occasione sabato abbiamo l'occasione ed è giusto che ci proviamo io spero spero voglio fare un appello che gli sportivi campo bellesi e i tifosi seguono la squadra in massa per essere incitati perché giochiamo fuori casa e che la squadra faccia una bellissima prestazione è stato un anno straordinario per l'atletico campovello soprattutto la seconda parte del campionato dopo una partenza così poi insomma la squadra si è ripresa ha avuto prestazioni sempre crescenti fino ad arrivare a questa semifinale playoff di domani qual è la forza del gruppo innanzitutto? La forza del gruppo sarà sicuramente che siamo tutti uniti lottiamo solo per un obiettivo vincere sì playoff e salire di categoria su quale sarà il contributo che tu darai insomma visto che per domani insomma si pensa tu sia indisponibile? Io spero che i miei compagni faranno di tutto per non farmi entrare e per vincere credo che non ci sarà bisogno solo di me ma di tutti i componenti che fanno parte del l'attletico campovello. Questa squadra da cosa si caratterizza secondo te? Si caratterizza sempre dal gruppo siamo tutti uniti e sicuramente questo c'era una grande forza perché siamo consapevoli che noi abbiamo tutte le caratteristiche regole per vincere questi playoff. Le figure dell'allenatore ma anche altre figure che hanno giocato diciamo in campionati prestigiosi insomma come Caglià ed altri insomma hanno fatto sì che l'esperienza diciamo che proviene dalla storica atletico campovello possa avere subito ecco questa fusione in modo da poter dare quel risultato in più, quel quid in più per poi ottenere questi risultati secondo te? Sì certo i giocatori che sono arrivati quest'anno hanno dato un grande dibuto, una grande esperienza a noi che dell'attletico campovello soprattutto il mister che è una grande persona, un grande allenatore.